Salve a tutti Blazers e benvenuti in questo nuovo episodio della serie di sopravvivenza Buon lunedì e buon inizio di settimana a tutti Eccoci qua, si continuano tutti i progetti della serie e ragazzi Anche in questo filone di 100 episodi che ci porterà l'episodio numero 1000 Ci stiamo dando dentro, davvero di brutto Ma può essere l'episodio 700, 800, 900, 1000 Ma bisogna comunque iniziare di notte e andare subito a dormire Qua non si scappa Bene, ora che abbiamo il favore del sole è il momento di introdurre l'episodio di oggi Ragazzi, oggi vi voglio mostrare i passi fondamentali che sto compiendo per il nuovo grande progetto qui alla base Un progetto che attendevo e forse attendavate di fare da un sacco di tempo e che adesso vi farò vedere Allora, sto facendo un attimo Mente Locale ma direi che iniziamo andando da questa parte Perché vi ho già accennato qualche episodio fa che ho creato un secondo passaggio segreto di questo tipo Ovvero il passaggio segreto dalla parte opposta della stanza Ed eccoci qui Si apre Non mi ha preso il sensor Ehi, buongiorno Eccoci qui, perfetto Si entra in questa grottina custom che ci conduce Grazie Marco per la sub Ogni tanto capita che arrivano le sub offline e capita a volte che sto registrando Quindi ne approfittiamo per ricordare che questa sera alle 20.30 sono in live proprio qui sulla survival Ragazzi, prima di tutto ci divertiamo, continuiamo insieme tutti i grandi progetti Seconda cosa, questa sera metterò un VIP in palio ai donatori di sub E terza cosa, continueremo God of War Perché siamo arrivati nella parte decisiva del gioco Detto ciò, continuiamo Vedete questo enorme muro? Al suo interno nasconde delle cose Ecco qui il nuovo progetto che sta prendendo lentamente forma E ragazzi, questo progettone sarà la nuova zona allevamento Ricordate che qui sopra c'erano tutte le varie pecore divise per colore Quel coso lì è pericolosissimo Vartene subito Ecco, da quando ho tolto tutto ho fatto questo scavo Ho preso le misure e ho iniziato subito a lavorarci Beh, subito subito no Però insomma, abbiamo iniziato a lavorare il progetto Che tipo di progetto sarà questo? Vi faccio fare un salto in creativa Per farvi vedere un po' l'idea Eccoci qui nel mondo che uso per fare i miei test Tra l'altro questo l'ho ideato sempre in live, in diretta con voi E ragazzi, che cos'è quest'area? È un'area dove ho provato un po' lo stile di quello che andremo a fare Quindi abbiamo una sorta di zona che ricorda gli enormi fenili americani Avete presente quelli dei film sul centro America Tutti rossi, giganteschi, il granaio, l'allevamento, eccetera eccetera Ecco, seguendo proprio quello stile Andiamo a creare però solamente l'interno Perché sarà tutto sotterrato di questo ambiente Dove il pavimento è fatto di fango Packed mud, anzi E funghi marroni Cosa che abbiamo già realizzato Questa struttura in dark oak Che conterrà i vari allevamenti Quindi i vari recinti E ogni recinto potrà avere un suo stile Tipo qui ho pensato quello dei maiali Con un po' di fanghiglia varia E poi queste travi andranno a sorreggere il soffitto Che sarà fatto in mangrovia Devo ancora un attimo capire bene la sua forma E niente, questa è un po' l'idea di quello che sto realizzando Ma possiamo tornare nel mondo survival Come potete vedere qui abbiamo già tutta una fila quasi finita E oggi vi voglio mostrare come realizzare questa strutturona che sto facendo Quindi continuiamo, mettiamo un po' di dettagli E andiamo avanti con il progetto Cosicché se volete riprodurlo o prendere spunto Sapete come farlo E rimane soprattutto documentato nella serie Prima cosa però direi di andare a prendere un po' di legno Perché ci serve molto più legno di quello che abbiamo Quindi svolazziamo fuori e andiamo qua dietro nella dark oak forest Quindi prendiamo tutto il legno necessario E scappiamo subito a dormire Perché ragazzi qua sta tuonando E tra l'altro mi stavo schiantando ancora con l'elitra Ogni volta che tuona qua cade un fulmine nella foresta Poi mi trovo la roba in fiamme Gli incendi, gli alberi spaccati eccetera eccetera Eccoci qui ragazzi Facciamo un salutino a Bilbo e Frogdo Che non li vediamo da tanto Salve Bilbo, salve Frogdo, tutto bene? Come si sono incassati entrambi qua? Non so più che dire E torniamo a metterci al lavoro Come potete vedere da questa parte Poi una volta finita la struttura Dovremmo terraformare l'intera collina di nuovo Perché altrimenti è un bel disastro E ragazzi andiamo a riprodurre esattamente questa struttura Dalla parte opposta Facciamo prime due sezioni In modo da non esagerare E per fare ciò andiamo a prendere i tronchi Che ho scavato Di dark oak forest Di dark oak in realtà e basta Quindi quello che dobbiamo fare è mettere un tronco Che andrà scortecciato E poi fare Uno, due, tre, quattro e cinque Poi Lasciamo uno, due, tre, quattro, cinque blocchi E mettiamo un blocco qui Poi mettiamo in pausa E togliamo i suoni dei mob ostili Perché c'è uno zombie che rompe le palle Uno, due, tre, quattro, cinque Bam L'altro lo mettiamo qui Poi facciamo ancora Uno, due, tre, quattro, cinque Bam E questo contro l'angolo Bene Fatto ciò Andiamo sopra uno dei blocchi Uno, due, tre, quattro, cinque Saltino magico Blocco all'ultimo Uno, due, tre, quattro E ragazzi Per costruire un po' più velocemente Bisogna prendere anche i trucchi dal parkour In modo da muoversi E uno, due, tre, quattro e cinque I pilastri per ora li abbiamo piazzati Questo pilastro su cui resto io Quelli verso l'interno Arriveranno in alto fino a Praticamente a toccare il tetto Che poi Avrà altri travi in orizzontale Per dare struttura al tutto E per ricordare ancora di più I granai Slash finili Slash allevamenti americani Classici rossi Che vi stavo dicendo Peraltro le pareti rosse Non sono finite Le ho costruite fino a un certo punto Mi costa tanta terracotta Quindi poi la dobbiamo farmare E una volta che abbiamo fatto la struttura Poi andiamo avanti E proseguiremo anche quelle Ovviamente Ora possiamo scendere E a questo punto In questo punto esatto Mettiamo Per ogni pillar Due blocchetti Che escono In questo modo È un po' costoso Questo design E in realtà Quindi dobbiamo mettere tre Perché si congiungono le sezioni Dicevo È un po' costoso Perché usiamo Il legno grezzo Quindi bisogna Prenderne un po' Altrimenti finirà in fretta Fatto questo Scortecciata Dell'ultimo blocco Per tutti i pilastri E poi possiamo proseguire oltre Abbiamo infatti bisogno Di un po' di blocchi derivati Andiamo a raccogliere anche questi Che un po' di roba Già l'abbiamo E anche bottoni Ovviamente Andiamo a fare quindi Altre assi di legno E da queste assi di legno Ci facciamo ovviamente Un po' di scale Ora ragazzi Andiamo a prendere Le assi di legno E con esse Andiamo a connettere Questi Piloni Questi Queste travi Che abbiamo messo In modo da completare Il collegamento Deve avere l'idea La struttura Di essere molto solida Perché sopra Avrà ovviamente Una zona percorribile E poi reggerà Tutti i pilastri Che tirano su L'intera struttura Ovviamente Minecraft non serve La fisica realistica Ma noi cerchiamo Di avvicinarci Almeno un po' Prendiamo ora le scale E le scale le mettiamo Sotto tutti gli angoli In questo modo qui Dopodiché Prendiamo Le botole E prendiamo Anche i bottoni Le botole Ne serviranno molte di più Quindi andiamo a farne Delle altre Io come sempre Vado ad abusare Delle botole Perché sono Un ottimo blocco decorativo Ed è la cosa Che più si avvicina Ai mezzi blocchi verticali A parte i muretti Connessi Quindi è sempre bello Utilizzarle Per quanto riguarda i bottoni Le mettiamo sulle Travettine che spuntano Di tronco In questo modo Poi prendiamo La botola E seguendo il pattern Che ho fatto Da quest'altra parte Andiamo a metterne Una qui E una qua sopra Al centro Una qui E una qua sopra Al centro E poi ancora una qui Sotto le scale Botole Ovviamente anche in questo caso Quindi da questa parte Da questa parte E anche dalla parte opposta Da una parte E dall'altra Anche i pilastri dietro Hanno queste botole Ma non le hanno Proprio tutte Tutte Come abbiamo visto all'inizio In questo caso Le botole le metto ovunque Meno che nella parte frontale Perché se no Non so Diventa un po' troppo robusta La trave Mi piace tenerle solamente Su due lati In questo caso Quindi andiamo a mettere Queste botole Che poi Andranno messe anche qua sotto E in questo caso specifico Le possiamo mettere Da tutte le parti Così da dare un po' più di struttura Un po' più di particolarità A queste travi Che sembreranno più arrotondate Una volta sistemata Tutta la struttura base Dobbiamo riempire queste parti Perché sopra Dovrà essere calpestabile Ci sarà un pavimento E quindi per farlo Vado a prendere le scale E facciamo tutto quanto Un contorno di scale In questo modo qui E finite le scale Al centro Andiamo a metterci Dei mezzi blocchi Dei mezzi blocchi Che verranno però alternati Ad altre scale Quindi mettiamo questo blocco Come appoggio Al centro di tutto Togliamo questo Lasciamo un buco a croce E attorno a questo blocco Andiamo a metterci Delle scale Girate in questo modo In questo modo Diciamo il blocco Di luce centrale Che illuminerà L'intero recinto Viene tipo Diciamo Incapsulato Nelle scale Che volevamo mettere Ora Dobbiamo salire un attimo Quindi andiamo a mettere Scaffoldo in tattico Si va su Da questa parte Poi Botola Qui Ci appoggiamo Ne mettiamo un'altra Al centro Togliamo questa Torniamo giù E Shift Cliccando la botola Possiamo piazzare La frog light Dalla parte giusta In modo che questa faccia Venga vista da sotto In questo modo Abbiamo una faccia Un po' più simmetrica La frog light Messa in questo modo Farà luce sotto Ma farà luce anche sopra Perché attraverso la botola Riesce a illuminare Quindi tanta roba Per finire tutto Andiamo a prendere Muretti e cancelli Prendiamo i muretti Di mad bricks Per ricordare Lo stile del pavimento E li mettiamo attorno A questi pilastri Che abbiamo lasciato Quindi fino a qui E poi con i cancelli Li mettiamo In questo modo E seguendo questo trucchetto Come al solito Il cancelletto Che si attacca al muro Fa sì che il muro Sia più allungato E piatto E rimane A una certa altezza Mentre quello al centro Che non si attacca al muretto Ha un'altezza diversa E in questo modo Criamo una piccola trama Con i cancelli Che come vedete Sembrano seguire Una sorta di sinusoide E quindi Diventa molto carino E meno piatto In questo modo Ragazzi Abbiamo praticamente finito Vado a mettere Gli ultimi dettagli E poi ci siamo Anche perché A dirla tutta Manca una cosa fondamentale Questi saranno tutti I recinti Per mettere I vari animali Nei loro Recinti tematici Che poi andremo a fare Tra l'altro Se serviranno Recinti più grandi Posso scavare Nella parete In alcuni casi E allungarli Lì dentro Perché siamo sottoterra E quindi non c'è Una vera struttura A confinarci Per i recinti Semplicemente Vado a fare Una cosa classica Quindi staccionate E un bel cancelletto Al centro Alcuni recinti Potrebbero essere diversi Ad esempio I conigli Sarebbero in grado Di saltare La staccionata O le rane Quindi in quel caso Dovremmo fare Un design Un attimo Più complesso Comunque Con dei recinti Con delle staccionate Più alte E ci siamo quasi Poi tutto questo design Andrà replicato Su vasta scala Quindi vi ho fatto L'esempio Dovrò lavorarci Un bel po' Per finire tutto Ma ora ragazzi Come vedete Io ho Del Sì Buonanotte Del fango Non del muschio E abbiamo anche Delle balle di fieno Che ho rubato Da alcuni villaggi Che ho eraidato Perché fai prima Trovarle le balle di fieno lì E ottenere il fieno Che fa Marlon normalmente Quindi da queste balle di fieno Andiamo a Derivare Un po' di grano Che mischiamo Direttamente al fango Per ottenere Il packet mud Classicone Queste possiamo Renderle Di nuovo Balle di fieno Così siamo un attimo Più comodi Vabbè me ne sono avanzate Alcune Fa niente Questo packet mud Lo possiamo poi Trasformare In mattoni Perché facciamo i mattoni Perché io ho fatto Tutto questo pavimento Con il fango Che dà l'idea Di essere qualcosa A mio parere Adatto Adatta per Un allevamento Di questo tipo Ma nella parte centrale Voglio Cambiare un attimo Fare un percorso Abbozzato Quindi per farlo Andiamo a spaccare Alcuni blocchi Solamente alcuni blocchi E al posto Dei blocchi Che abbiamo tolto Mettiamo Ovviamente Questo nuovo blocco Che sendo Lavorato Può dare l'idea Di un percorso Prestabilito Quindi secondo me Anche per variare Un po' il pavimento Ci sta a cambiare Un po' E mettere Questo blocco Particolare Arriviamo fino a qui E come vedete Fa la sua porca figura Non faccio Tutto un sentiero Uniforme Preferisco farlo Così diciamo Frammentato Per dare l'idea Che comunque sia Un pavimento Vissuto Che quindi Sia un po' rovinato Questo pavimento In mattoni Sia un po' coperto Insomma Solito trucchetto E ovviamente Poi verrà portato Tutto fino in fondo Una volta che abbiamo Finito il design Ma l'idea È di fare un allevamento Di questo tipo Voi fatemi sapere Se vi piace L'idea Il design E come sta avvenendo Spero di riuscire a finire Questo progetto In fretta Perché abbiamo Tutti gli animali Ancora incastrati Da questa parte E pian piano Finalmente Avranno il loro spazio Lo spazio che si meritano E riusciremo a fare Una roba bella Organizzata Finalmente Detto ciò ragazzi Per questo video È il progetto Del granaio Allevamento Fattoria Non so come chiamarlo È tutto Ci vediamo stasera In live alle 20.30 E domani con un nuovo video Un saluto da Eren Ciao a tutti Ciao a tutti